EICMA 2016 Shark porta alcune novità e ridisegna la gamma una gamma che partendo dai modelli stradali, quindi caschi integrali, fa sparire lo speedar in realtà non lo fa sparire, lo sostituisce con un modello molto più compatto che va di moda ora, un design più attuale, ovvero lo Spartan Spartan che è stato declinato sia nella versione in carbonio che quindi full carbonio, un carbon più costoso ovviamente ma anche più leggera che nella versione in fibre composite, quindi una modalità per offrire lo stesso modello il top di gamma, diciamo, a parte il modello da pista, ad un prezzo un po' più competitivo inoltre arriva Riddle che è il nuovo entry level della gamma di Shark un casco che già di base ci offre comunque visierino, interni removibili, le varie prese da razione regolabili insomma, allo stesso prezzo del modello uscente propone una dotazione un po' più completa c'è anche poi di Squall che è lo Squall, il casco con i led, senza i led ovviamente offre tutte le stesse caratteristiche ma si risparmiano una quarantina di euro grazie appunto all'assenza del sistema di illuminazione passando via gamma dei modulari, Shark riconfigura a partire dall'S3 l'entry level dei modulari 300 euro, poi c'è Evo One a 400 euro e Evo One Carbon, la top di gamma in carbonio, a 500 euro così da offrire una gamma più completa e soprattutto accessibile a diverse fasce di prezzo anche per questa categoria grazie a tutti